partite la seconda la seconda la seconda passano ecco tutto è così lento in realtà le cose si fanno sempre più complicate 550 viene intanto ammonita si tratta da parte via in piazza parcoati parcoati parco 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 Il resto del gruppo ha rinforzato l'attività della Parana Spatting, al passaggio a Contagiri a meno e 10, eliminazione al corso con l'attività del gruppo e ancora l'attività della Parana Spatting del passaggio, 4-4, 4-8, vedete il passaggio, 40 al gruppo numero 165 Travoltaì nella nuova con un bel numero grande, grande, che aiuta lo studio che è davanti a vedere le pietre lontano, che ancora siamo, seconda attenzione per la numero 550, appoggio, passaggio sulla via del Tavaglia, 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 passaggio su 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 Buongiorno a tutti. 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 La scuola è in prendicina, 4-3 calabato per il rialzarsi. il passaggio del Venebrio con la rimposta per l'albaio del fatto Olimpire Cavalli allo aiuto per l'initazione per farlo per l'ultimo giugno come all'onorevole Venebrio con le basse in strada giugno non voleva ampiamente lui so, queste sono gli atleti che restano nel finale i nostri atleti con l'amor di un frattu열 rimposto se vedevato la rimposta per l'albaio del fatto la rimposta per l'albaio del fatto Gaini! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.